Per valutare l'indice di disbiosi esistono differenti tecniche che vi lascio in questa tabella. Alcune di esse, come la GAMAP, sono state introdotte inizialmente per la valutazione delle malattie infiammatorie intestinali e solo nel corso del tempo sono state adattate per la potenziale valutazione dell'indice di disbiosi. Tutte queste tecniche hanno un denominatore comune, ovvero quello di analizzare il DNA batterico presente in un campione, in genere un campione di feci. Con l'estrazione del DNA si ottiene un'analisi sia qualitativa che quantitativa della maggior parte dei batteri che sono presenti negli intestini. Purtroppo nessuna di queste tecniche ha la capacità di analizzare completamente il microbiota intestinale ed ecco perché è ancora oggi molto difficile avere un'analisi dettagliata di tutti i componenti del microbiota intestinale. Inoltre quello che mi preme sottolineare è che l'indice di disbiosi misurato non è matematicamente correlato ad una malattia. Può essere interpretato come un potenziale marker diagnostico ma non sempre come un preciso predittore di malattia. Questo perché, come ho detto nel primo video che ho fatto sulla disbiosi e che vi lascio nelle schede, ad oggi non si conosce ancora la specifica composizione e la reale distribuzione del microbiota intestinale in un individuo sano. Esistono comunque dei casi specifici in cui si osserva effettivamente una correlazione diretta tra indice di disbiosi e patologie e questo è il caso per esempio degli individui affetti da rosacea o d'artrite psorisiaca. Oltre ai test che vi ho precedentemente mostrato, esistono altri tipi di metodiche che permettono l'analisi di alcune sostanze idrossolubili derivate dalla degradazione dell'aminoacido triptofano a livello intestinale e sto parlando in modo specifico del test dell'indicano e dello scatolo. Quando si evidenziano alte concentrazioni di indicano e di scatolo nelle urine, si può essere in presenza di varie condizioni patologiche o non patologiche che colpiscono l'intestino. Questi parametri possono aumentare in caso di putrefazione batterica, ovvero un'eccessiva colonizzazione di batteri anaerobi presenti nell'intestino. Tuttavia possono essere elevati anche in caso di diete chetogeniche, malattie renali, epatosteatosi o variare sensibilmente a seguito di terapie farmacologiche. Per esempio l'assunzione di antibiotici riduce l'indice di indicano nelle urine. Quindi questi test non descrivono in via esclusiva una disbiosi intestinale e soprattutto non danno alcuna informazione sulle caratteristiche esatte dei ceppi coinvolti in una eventuale disbiosi. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale e a condividerne i contenuti. Se avete qualche domanda sulla disbiosi e sui test per la disbiosi potete farmela nei commenti oppure scrivermi a infochiocciolaboxalcorporation.com e io vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti.